Ciao a tutti e benvenuti a GialloBook, le video recensioni su libri gialli. Oggi ci vediamo un velocissimo e rapidissimo unboxing, ovvero sia il trentesimo, nonché il contenuto di questa busta. In questa busta c'è lui. Ho scelto lui per tre motivi. Primo perché l'ho scoperto grazie a una delle pagine che parlano di libri che seguo su Instagram, di cui adesso non ricordo il nome. Poi perché non conoscevo né l'autore né la storia. E terzo perché volevo leggere qualcosa di diverso. Detto questo, arriverà recensione quanto prima. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate. Se l'avete letto, se vi ispira, se lo comprereste. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella se vi piacciono i video che faccio. Di iscrivervi al canale di cui trovate il link in descrizione. Che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete scriverle sotto nei commenti, io risponderò appena possibile. e che, come vi ho già detto nell'altro video di oggi, scusate, venerdì 14 ore 21, sarò qui in live su YouTube per festeggiare, seppur in ritardo, i miei primi dieci anni su YouTube. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!